Buongiorno e benvenuti in Sardegna nel secondo giorno Dunque ragazzi ci siamo dai, tutto a posto, diletta anche la felpa, è segno che è abbastanza caldo perché sennò va al giacchetto E quindi ora andiamo, andiamo a spiaggia Le Piscine, zona Palau, andiamo a vedere com'è Mi sa che Dile questa volta ci ha azzeccato, mi ha consigliato una cala spettacolare, siamo praticamente soli Siamo praticamente soli Allora ragazzi, stiamo andando a cercare una calettina un pochino più nascosta Dobbiamo fare un tratto roccioso Eccoci qua Fine giornata Siamo venuti a guardare un po' di panorama Valle della Luna Bellissimo, capitati per caso Ora andiamo a casa Cenettina, letto Che domani parte un'altra strepitosa avventura Quindi vi aspettiamo domani Avanti tutta Ciao 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 Ciao